Il Vaticano si adoperò per fornire passaporti e una via di fuga a gerarchi e criminali nazisti perché potessero espatriare verso il Sud America e nel gergo di quegli anni questa venne chiamata The Rat Line, la via dei topi che scappavano. Quello è grave? È grave comunque, ma anche qui vede, a volte i documenti vanno letti tutti, confrontati, misurati, soppesati, giudicati. Non pare che in questa azione di espatrio dei gerarchi nazisti e criminali nazisti, ma certo gerarchi criminali, Norimberga li aveva condannati, quelli che poterono essere presi, abbia agito in quanto Vaticano, perché il Papa, tutto si può dire di più del XII, ma è un uomo sempliciotto. Quindi il Vaticano pare che si tirasse fuori da questa cosa. Lo facevano più i nunzi apostolici e i vescovi. Ma in questo espatrio, come Santa Sede, il Vaticano entra poco. Non credo che da noi si trovi mai un passaporto falso per questi gerarchi e criminali.